Beh, è stato un anno pazzesco, tremendo, è una delle categorie più colpite in senso assoluto. Addirittura alcuni dati parlano del 30%, insomma, dei malati di Covid, eccetera. Però c'è anche una speranza futura. Questa sera vogliamo, nel fare gli auguri, vogliamo avere questa prospettiva benefica per il nostro mondo e soprattutto voglio dire una cosa carina, cioè questa sera o le prossime sere qualcosina di dolce. Potete concederlo perché anche addolcisce la vita e soprattutto dobbiamo avere un grande ringraziamento a proposito della battuta di prima per tutti quelli che ci sono stati vicini all'interno delle terapie intensive e tutto il resto, tipo Marco Ferri che è un amico e anche dell'emittente. E soprattutto stiamo cominciando una battaglia per il prossimo anno per difendere gli infermieri dedicati. Perché in questo momento di emergenza stanno distribuendoli in ogni dove e mancano tanto perché l'infermiere dedicato aiuta molto a vivere meglio. Quindi questa sarà la battaglia del nuovo anno? Questa sicuramente è la battaglia. Abbiamo già cominciato e continueremo su questo piano perché stanno distribuendo un po' troppe cose e togliendole da quelle che sono le malattie particolari, le patologie particolari. E credo che invece dobbiamo perlomeno ritornare ai diritti acquisiti.